Non siamo precisi come i tedeschi, però non siamo neanche italiani, siamo a metà strada, siamo austriaci. Nel retro della prima pagina, cioè a pagina 2, io vi ho portato degli esempi di parallelismo tra il codice di Amurabbi, le leggi medioassire e alcuni codici ebraici. Lì potete sbizzarrirvi a vedere come ci siano alcuni elementi che proteggono il più debole. Colui che rapisce un uomo e lo vende, la migliore traduzione sarebbe colui che rapisce un uomo per venderlo, se lo si trova ancora in mano a lui sarà messo a morte. Amurabbi dice, se uno detiene arbitrariamente un altro, sarà messo in carcere e pagherà 15 cicli d'argento. Secondo i calcoli dovrebbero essere 15 anni di paga. Un ciclo d'argento e la paga di un anno di un operaio. 15 anni di paga. E così, per vostro diletto prima di pranzo, o subito dopo la messa, vi leggete questi testi e vedete che il testo biblico, il mondo biblico, non è che sia originalissimo. Ha copiato parecchio da questi testi, che sono molto più antichi, dei codici presenti nel testo biblico. E allora qualcuno si chiederà se questi testi biblici copiati dai codici assiri, o comunque mesopotamici, sono testi ispirati. La domanda è già venuta fuori, per questo vi faccio questa domanda, cioè faccio rimbalzare sull'assemblea quello che mi è stato detto in privato. C'è una radicale differenza fra ispirazione e rivelazione. Il nostro intelletto, la nostra razionalità, arriva fino a un certo punto a scoprire la verità, oltre non riesce. Se noi volessimo conoscere qualche cosa che va oltre la nostra possibilità razionale, abbiamo bisogno che qualcuno ce lo dica. Che Dio esista, la ragione può dimostrarlo. Chi è Dio, la ragione non può dirlo. Se noi sappiamo chi è Dio, è perché Lui ce l'ha detto. Questo atto si chiama rivelazione. La rivelazione tocca l'intelligenza. L'ispirazione è una spinta. Dio spinge a scrivere quello che è utile per noi, per la nostra salvezza. Ma non sempre spinge a scrivere solo ciò che Lui ha rivelato. Molto spesso Dio spinge a scrivere ciò che l'uomo sa. Descrivere una battaglia. L'uomo la vede e la descrive. Formulare un proverbio. Chi coltiva il campo mangia il suo pane, chi coltiva sogni mangia chimere. Ma non occorre una rivelazione per formulare un proverbio del genere. L'ispirazione è la spinta a scrivere sia ciò che Dio rivela, sia ciò che Dio ritiene utile per tutti gli uomini, ma che è presente nella conoscenza umana. Quindi, non tutto ciò che è ispirato è rivelato. Perché nel testo biblico c'è una parte che è rivelazione e una parte che non lo è. È solo ispirato e basta. Non tutto ciò che è ispirato è rivelato. Solo una parte è rivelata di tutto ciò che è ispirato. Il rovescio. Tutto ciò che è rivelato è ispirato. È chiaro? Adesso forse vi è più facile lavorare con questi testi. Questi sono testi ispirati ma non rivelati. Noi possiamo dire alla fine di questo brevissimo comparazione che farete per conto vostro che determinate norme nascono all'interno di determinate culture. E' certo che se per ipotesi in una cultura non esistesse la schiavitù, noi non avremo nessuna norma come quella che troviamo nella linea ABC. Quindi le norme nascono legate a una cultura. Teniamo presente una seconda caratteristica che tutte le norme che conosciamo sumeriche, assire, babilonesi, ittite, guarda caso, ebraiche, tutte sono dettate dalla divinità. O almeno si presentano così, ovviamente. Cioè si intende dare al codice un'autorità che sia al di sopra di quella umana. Voi dite perché? E' un modo, forse un po' ingenuo, di combattere la corruzione dei giudici. Non è intimorire il cittadino. Il cittadino sa che se non rispetta la legge arriva la polizia e lo sistema. Una volta la polizia era molto più presente nelle città antiche. Ma è per i giudici i quali non possono manipolare la legge come vogliono. Lo facevano lo stesso. Perché noi abbiamo le testimonianze nel libro di Amos che sono orribili. Orribili. Pensate che già allora si parlava di busterelle. Proprio c'è il termine. Quali codici di leggi noi conosciamo nel mondo biblico? Dalla linea 56 alla linea 72 voi avete tutti i codici più importanti dell'Antico Testamento. Se notate c'è una suddivisione. I primi tre appartengono all'epoca nomadica. Esodo, periodo dell'Esodo è la prima fase della sedentarizzazione in Palestina quando gli ebrei inizialmente hanno cercato di vedere quali erano i territori dove non c'era nessuno. e quindi hanno girovagato per tutto la zona della terra di Cana per mettere gli insediamenti ebraici lì dove non c'era nessuno e purtroppo li hanno trovati in montagna. Nelle zone montuose non c'era nessuno e li hanno cominciato a fondare i primi villaggi ebrei. Però hanno dovuto girare parecchio. Nella seconda fase della sedentarizzazione cioè quando gli ebrei incominciano a conquistare la terra a suon di spada e di incendi noi abbiamo già una sedentarizzazione fissa perché gli ebrei partivano dei loro villaggi per fare la guerra agli altri. E quindi nella seconda parte della sedentarizzazione noi abbiamo già una civiltà stanziale. Abbiamo dunque dei codici molto arcaici che ci dicono come gli ebrei vivessero in questa situazione di cammino di instabilità e come gli ebrei vivessero in una situazione di stabilità. Provate a notare dalla linea 60 alla linea 71 quanti codici tanti troppi quelli che a noi interessano sono alla linea 63 e linea 64 perché? perché questi sono i codici che hanno alle spalle la tradizione orale più antica quindi alla linea 56 voi vedete Levitico 18 1 17 bene Esodo 20 ed Euteronomio 5 a livello di stadio orale sono molto più antichi ci siamo? Per questo ci interessano perché questi sono i due codici che stanno alla radice di tutti gli altri si trovano al posto numero 7 e numero 8 perché io li ho classificati qui secondo la redazione scritta non lo stadio orale mentre Levitico nasce immediatamente come testo scritto Esodo 20 ed Euteronomio 5 non sono nati come testo scritto con questa fisionomia sono nati con un'altra fisionomia al di sopra della linea 56 volete metterlo nella linea 55 lo stadio primitivo di questi due decaloghi va benissimo ecco la cosa che a noi interessa di più è capire che ci sono due due decaloghi basta questo per fare un ragionamento elementare ciò che conta in questi decaloghi sono i valori non la legge è scritto non uccidere ma qual è il valore che viene protetto la vita questo è importante poi tu la vita la puoi proteggere una volta dicendo non uccidere ma l'altra la puoi proteggere dicendo non inquinare perché ciò che è importante è la vita allora noi vedendo le formulazioni diverse comprendiamo che nella civiltà ebraica se fossimo atei nella fede ebraica se siamo credenti ciò che è importante è il valore perché alla formulazione verbale della legge si può sempre trovare una scappatoia mentre al valore tu non trovi la scappatoia teniamo presente questo dato che nasce dalla comparazione dei codici e poi c'è un secondo dato molto importante per i miei amici che hanno fatto ebraico con me linea 83 84 85 per chi questo tipo di particolarità non la possiede linea 86 87 88 pensato per tutti nessuno escluso questo testo che noi abbiamo qui sotto il naso è un testo particolare perché è il cappello del decalogo con il versetto 3 di esodo 20 inizia il decalogo però il capitolo inizia il versetto 1 e il versetto 2 ed è questo il criterio ermeneutico per capire il decalogo cioè la chiave interpretativa Dio non dice a Mosè sbatti sulle spalle agli ebrei questo decalogo e non se ne parli altro no il criterio è totalmente diverso io sono il signore tuo dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile linea 84 le ultime due parole a sinistra mi bet abadim dalla casa degli schiavi non condizione servile sono stato io tradurre condizione servile perché in italiano casa degli schiavi non ha senso ma di per sé il testo ebraico dice dalla casa degli schiavi mi bet bet lo conoscono tutti bet lechem casa del pane poi arriva il biblista che dice se no questa è un imbrogliata ebraica perché sarebbe bed la hum casa della luna era un tempio pagano ma non importa succede niente dunque il versetto 2 la linea 87 per gli altri linea 84 questa è la chiave interpretativa voi mi avete conosciuto come come colui che vive in mezzo a voi dio tuo le divinità vivevano in un luogo o in un tempo quindi c'è il dio dell'albero il dio della collina il dio della guerra il dio della primavera la dea della primavera la dea dell'amore e dio è un dio di un popolo quindi lui risiede in mezzo alla gente io sono il signore che risiede in mezzo a te e che ti ha fatto uscire ti ha liberato cioè tu mi hai conosciuto così se tu mi hai conosciuto così hai avuto questa esperienza allora sappi che ciò che io adesso ti propongo continua quella esperienza io sono sempre quello ti libero anche dandoti queste norme queste norme continuano la liberazione che io ho cominciato con te portandoti fuori dall'Egitto capite la logica? per il mondo ebraico non del tempo di Gesù ma precedente il decalogo era una forma di liberazione ti liberava dagli istinti primordiali ti liberava da quella dimensione di animalità che può risiedere in ogni persona umana era comunque un'azione che proseguiva l'esperienza che tu avevi avuto questo è il primo concetto da avere chiaro un secondo concetto da avere chiaro per capire il decalogo è mai questo lo ripeto ormai da secoli mai impegno morale se non c'è prima l'esperienza di Dio ma l'esperienza di Dio la posso fare da persona immorale sì ripeto ma l'esperienza di Dio posso farla da persona immorale sì perché la moralità è una risposta a quella esperienza quindi tu l'esperienza di Dio la puoi fare in qualunque situazione e questa è una legge che voi trovate come un filo rosso che percorre tutta la Bibbia non c'è nessun impegno morale che non sia preceduto da una esperienza con Lui e questo è antropologicamente comprensibilissimo non c'è nessun gesto di affetto se non c'è prima l'affetto non c'è nessun impegno morale se non c'è questa esperienza profonda con Lui ci siamo stando così le cose perdonatemi la confidenza a quanti cristiani si può imporre la morale traduciamo questa domanda quanti cristiani hanno per davvero vissuto esaminato la propria vita per capire se c'è stata un'esperienza con Dio allora deriva l'impegno morale ma se ti manca questo momento di fascino come fai a sobbarcarti un impegno perché l'impegno morale non è mica piccolo impegno morale non vuol dire essere impeccabili vuol dire capire che questo è il punto di arrivo di un tuo cammino però lo accogli lo accetti lo fai tuo impegno morale non vuol dire essere già santi vuol dire essere incamminati e la strada è lunga qualcuno arriva a un chilometro qualcuno arriva a dieci chilometri qualcuno arriva a cento chilometri qualcuno ci arriva per davvero fino in fondo questi li canonizzano noi no ma noi siamo instradati quindi impegno morale non significa essere perfetti ma significa capire che quello sarebbe il nostro ideale ci stiamo camminando comprendiamo che siamo limitati pecchiamo ancora pazienza ma abbiamo fatto una scelta ma questa scelta nasce perché hai avuto un'esperienza bene adesso che abbiamo finito la poesia ciucemo cadenassi proviamo grazie a tutti grazie a tutti